Cinque colpi di pistola per il sale sugli arrosticini. Ielfri Rosado Guzman, giovane cuoco del Risto Bar Casa Rusti, in centro Pescara, ieri ha incontrato per la prima volta il pubblico ministero, Fabio Larapino, che sta coordinando le indagini, insieme al dirigente della mobile Gianluca Di Frischia e ad altri due agenti. Il 23enne, dal suo letto di ospedale, ha raccontato in meno di un'ora quanto accaduto la scorsa domenica. Un interrogatorio di prassi che mette a fuoco un episodio che è apparso chiaro fin da subito. Vi sono infatti le immagini di videosorveglianza, che ben poco spazio lasciano all'immaginazione, e la testimonianza di Martina, la collega di Ielfri, che ha assistito a tutta la scena prima di dover ricorrere alle cure mediche per lo shock subito. Un climax ascendente di violenza, rapido e inspiegabile. L'iniziale discussione pacata, la tensione che cresce per la salatura degli arrosticini e forse per i tempi del servizio, il pugno col quale Federico Pecorale ha colpito il cuoco. La collega lì presente si è messa in mezzo per scongiurare la rissa, ma il 29enne di Montesilvano, il residente in Svizzera, ha tirato fuori una pistola di piccolo calibro, l'ha puntata contro Ielfri e ha fatto fuoco. Cinque colpi sparati, di cui due, mentre il 23enne era già a terra dietro il bancone. Pecorale ha poi rimesso l'arma in tasca e si è allontanato lentamente. Ha preso un taxi sperando di arrivare in Svizzera, ma la fuga si è interrotta sull'A14 nei pressi di Pesaro. Ielfri ieri ha ricevuto la visita del governatore Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Guerino Testa, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del vice Gianni Santilli e del manager della ASL Vincenzo Ciamponi. Il corteo di politici in realtà era in ospedale per l'inaugurazione di un macchinario di radioterapia. Sono pronto, ha detto il ragazzo ai visitatori, ad affrontare tutte le difficoltà che si dovessero presentare in futuro per il mio recupero. Ielfri infatti non è più in pericolo di vita, ma si teme per l'uso delle gambe. Il proiettile non ha colpito direttamente il midollo spinale, ma gli è andato vicino causando una contusione su cui gli interventi chirurgici hanno allentato la pressione. risponde bene e sembra recuperare la sensibilità, dicono i medici. Questo ci fa ben sperare, ma il decorso sarà lunghissimo. Il quadro delle sue condizioni di salute, ad ogni modo, sarà chiaro nelle prossime settimane. E mentre Ielfri è in ospedale a Pescara, vi resterà almeno un'altra settimana, Pecorale è in carcere ad Ancona. La difesa scelta dal suo legale ruota tutta attorno alla perizia psichiatrica per capire, se possibile, cosa possa essere scattato nella mente del 29enne. L'avvocato ha confermato la scelta di procedere per rito abbreviato, tramite cui, saltando la fase del dibattimento, è previsto lo sconto di un terzo della pena.